Francesca Calciani, questo è il nuovo campetto di basket del campo di Giubiano, lo vedete bellissimo, colori sgargianti che colpiscono. Chiediamo a Francesca, che è un po' l'ideatrice di tutto questo, almeno artisticamente, cosa c'è dietro? C'è dietro un lavoro che ormai va avanti da quasi due anni, ci sono voluti, ovviamente c'è stata una raccolta fondi, c'è stato un progetto grafico, e tutto questo ha portato alla realizzazione di questo progetto artistico che unisce due realtà sportive come quella del basket e del rugby, come portavoce di queste due sport c'è il basket siamo noi e il rugby di Varese. Il campo, come vedete alle mie spalle, è molto colorato, principalmente i colori che abbiamo utilizzato sono il bianco-rosso, quindi il colore sia del basket Varese che del rugby Varese, con il nero come background e il grigio come colore decorativo. Abbiamo due palloni da basket, perché comunque si tratta di un campetto da basket, e un pallone da rugby al centro, perché ci troviamo nel bellissimo centro del rugby Varese. Le forme geometriche che vedete alle mie spalle, ad esempio questo fascione rosso, bianco-rosso che vedete, va a formare una V, che è la V di Varese, proprio per la città e lo sport di Varese. Abbiamo quasi finito, ci mancano giusto gli ultimissimi dettagli, poi facciamo le foto dall'alto, e spero che il nostro lavoro vi piaccia, io ringrazio il mio team per avermi supportata come sempre nella realizzazione di questo progetto, e non vedo l'ora di vederlo pieno di ragazzi che giocano e che facciano mille tornei. Complimenti, grazie Francesca. Grazie.